Le aziende agricole non riescono a trovare mano d'opera e così raccolti sono a rischio. Questa la denuncia che arriva da Confagricoltura Arezzo. Stiamo parlando di un differenziale che si aggira sulle 1.500 persone tra mano d'opera specializzate non, spiega il presidente Carlo Bartolini Baldelli. Ad essere in sofferenza sono tutte le imprese a prescindere dal luogo e dal genere di produzione. Il problema ormai non riguarda solo alcuni comparti e non solo gli stagionali, ma è generalizzato anche riguardo figure qualificate per l'agricoltura 4.0, un grido d'allarme che adesso è stato portato anche a Roma alla conferenza nazionale di Confagricoltura che ha coinvolto il mondo della ricerca del sindacato e il ministro del lavoro. Ogni anno che passa continua a crescere il fabbisogno di mano d'opera, prosegue Bartolini Baldelli. Il fenomeno sembra inarrestabile e non è solo una questione agricola, si tratta di un fenomeno dalle caratteristiche strutturali. Finora si è ricorso in modo crescente a mano d'opera straniera, ma anche questo canale non offre più risposte. Per questo occorre ridare dignità al lavoro agricolo e renderlo maggiormente attrattivo, conclude specialmente per i più giovani.